Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. L, e siamo qui in questo nuovo episodio dove vi mostrerò alcune robe molto speciali. Io ragazzi, posso dire, perché mi sono informato molto privatamente, perché queste robe che mi interessano, so molte cose sul funzionamento delle armi e degli equipaggiamenti militari antichi, quindi avevo intenzione di fare un video dove vi mostravo se le corazze presenti all'interno del Signore degli Anelli possono essere utilizzate anche nella vita reale e se sono utili per quanto riguarda la protezione o meno. Quindi presumo anche che, cioè, vi dico anche che questo video qui io ne avevo visto da uno youtuber inglese che aveva fatto una cosa molto simile solo con le armi. Tuttavia glielo faccio con le corazze, sia perché l'idea mi è piaciuta tantissimo, sia perché altrimenti avrebbe potuto ancora essere influenzato da quell'altro e dalle sue opinioni sulle armi. Quindi, il video inizia ora. Quindi ragazzi, partiamo con quella che dovrebbe essere probabilmente l'armatura più figa di tutto il Signore degli Anelli, cioè l'armatura degli Urukai. Allora, partiamo dal fatto che l'armatura degli Urukai, come potete vedere, è a piastre. Le corazze a piastre sono generalmente quelle che nel Medioevo proteggevano meglio, ma nel suo corso della storia hanno sempre protetto meglio. Le corazze degli Urukai, da quel che vedo, hanno un elmo che generalmente tende a essere molto protettivo sulla testa. Infatti, protegge completamente il cranio. E quella specie di spazzolone, tipo che hanno i centurioni di Roma, quella specie di spazzolone e cani in testa, quella specie di cresta, al contrario di quanto si possa pensare, non è inutile, ma mi si offre un'enorme protezione alla testa, ragazzi. Infatti, alcuni ermi che avevano un'enorme cresta sulla testa, avevano, per quanto riguarda, erano probabilmente degli armetti incredibilmente resistenti, perché proteggono moltissimo dai colpi di spada. La corazza a piastre, invece, da quel che ho visto, sul petto e sugli spallacci, è veramente molto completa e, siccome è abbastanza larga, non impedisce nemmeno molto i movimenti. E proprio non c'è nulla da ridire, questa corazza qui è fatta bene. Anzi, anzi, dire il vero, a giudicare da com'è fatta sul petto e sulla pancia, non dovrebbe nemmeno impedire i movimenti. Vede, inoltre, che alcune delle parti, come ad esempio sotto le ascelle oppure vicino alle gambe, sono fatte con una cotta in maglia, cioè l'armatura da neddi, al posto che essere fatta a piastre. Ciò non dovrebbe continuare a proteggere bene, tuttavia senza impedire ulteriormente i movimenti. E veramente, ragazzi, per ora questa corazza qui si sta dimostrando veramente utilissima, tanto che potrebbe essere riutilizzata anche in battaglie reali, cioè un'armatura del Medioevo che prende come spunto questa qui, sarebbe di sicuro un'armatura fatta bene. Gli spallacci si possono capire che sono fatti molto bene, cioè anche per via del fatto che proteggono molto bene anche il collo. Per quanto riguarda le protezioni sulle braccia, invece, questa qui non ne sono proprio sicuro. Hanno una protezione sulle braccia, un bracciale, che sulla sinistra è veramente enorme, quasi che potrebbe essere una specie di scudo. Cioè potrebbe anche funzionare come scudo. Questo qui, ragazzi, io non so dire se è utile o meno, perché un colpo di spada, se ti colpisce il bracciale fatto a questo modo, potrebbe senza problemi, non dico staccartelo, però tuttavia te lo potrebbe spostare e potrebbe dare molto fastidio. Che altro dire? L'armatura, inoltre, anche se ho avuto problemi a controllare, è protetta sui piedi, sugli stinchi, da un'altra protezione in ferro, e ciò è fatto molto bene. Tuttavia è del tutto scoperta sulle cosce. L'armatura degli Urukai, in poche parole, è fatta veramente molto bene, ragazzi. Tuttavia è molto scoperta sulle cosce. E va bene che gli Urukai sopportano bene il dolore da quel che ho visto, però tuttavia un Urukau zoppo combatte peggio di un Urukau che è in salute. Quindi questa armatura potrebbe essere ripresa senza problemi anche nella vita reale, e all'interno del film, ragazzi, è anche molto utile una corazza del genere. Perché anche se non sono sicuro che non è spiegato, gli orchi non sopportano luce dal sole, e da come ho visto guardando le wikipedia, perché io mi informo sempre prima di fare un video, tipo, gli rende meno reattivi, gli dà fastidio, e gli fa anche sentire le gambe molle, tipo. Quindi, elmeti del genere, come ad esempio colori degli Urukai, serve di sicuro anche a proteggerli meglio dai raggi del sole. Passiamo ora, ragazzi, all'armatura dei soldati di Gondor. Quindi, l'armatura dei soldati di Gondor è veramente, probabilmente, quella lì che più potrebbe essere usata senza problemi anche nella vita reale. Perché da quel che veda, una comunissima corazza a piastre, che quindi protegge bene, con gli spallacci fatti a modo... con le... la protezione sulle spalle, praticamente, è fatta a modo per impedire pochi movimenti, e stessa cosa per quanto riguarda... per quanto riguarda le protezioni sulle gambe. Quindi, questa qui è una corazza veramente molto completa, che potrebbe essere usata senza problemi anche in battaglie reali. Non ha proprio nessun difetto, tanto che gli elmi sono perfetti perché sotto alle corazze, specialmente quelli del menu Evo, tipo Templari, si respira alla fatica e quindi si ha problemi a respirare. Con gli elmi fatti così, invece, oltre che proteggere bene la testa, perché hanno la punta, quindi protegge meglio i difendenti di spalla alla testa, permette anche alla guardia di poter vedere bene tutto ciò che gli sta attorno, e anche di poter respirare senza problemi. E il che è una roba veramente molto importante all'interno di una battaglia. Gli scudi che hanno, invece, sono, come dire, sono giusti. Si usavano poco gli scudi del genere nel medio Evo, tuttavia la forma e la dimensione di questi scudi qua è giusta. Infatti, ricordatevi sempre, più la corazza è grande, più gli scudi tendono ad essere piccoli, fino a scomparire. Mentre, più gli scudi sono grandi, più la corazza tende ad essere assente. Quindi, scudi del genere, ragazzi, possono... sono veramente proporzionati alla corazza, e una corazza del genere sarebbe forse quella lì che meglio protegge tutto il Signore degli Anelli. Passiamo ora, ragazzi, alle corazze dei soldati di Rohan. Quindi, io premetto che io penso che Rohan sia forse la nazione che faccia più schifo di tutte all'interno del Signore degli Anelli. Non per quanto riguarda le corazze, ma proprio perché io mi sto facendo in quattro per cercare delle possibili immagini attendibili a poterle osservare. Tutte quelle che stavo guardando sono in bassissima definizione. In ogni caso, per quanto riguarda, le corazze di Rohan sono probabilmente quelle in astratto le migliori. Perché, uno, essendo fatte a scaglie, essendo delle corazze a scaglie, proteggono molto... come dire, proteggono giustamente e occupano pochissimi movimenti, ragazzi. Infatti, le corazze a scaglie in maglia sono generalmente quelle che meno impediscono i movimenti. e sono anche ben protetti per via di bracciali e spallacci. L'elmo, invece, anche questo qui è fatto veramente molto bene. Un po' forzato il level design, devo dirlo, però, tuttavia, penso di aver visto degli elmi simili in alcune fonti storiche. Quindi, nulla da dire dagli elmi che proteggono anche loro molto bene. Tuttavia, nonostante in astratto potrebbe essere la migliore per via della resistenza a peso, devo ammettere che le corazze a scaglie a maglia non sono le migliori. Infatti, poniamo il caso che un Uruk, come quelli lì che abbiamo visto prima, un Uruk-Ao, colpisca con la sua spada una di queste corazze qui. Probabilmente non riuscirebbe a ferire il soldato per via con la lama, perché sono molto difficili da rompere le corazze, in realtà. Non è come nel Signore degli Anelli che vedete i soldati morire come mosche, no. Voi, se avete una spada, non riuscite a perforarla subito una corazza. Comunque sia, siccome è molle e non è una piasta rigida, nonostante la lama non riesce, potrebbe probabilmente, non taglierebbe il soldato, di sicuro il colpo sarebbe così forte che se gli arriva sul petto gli spaccherebbe qualche costura e gli causerebbe anche degli enormi danni interni. Quindi, ah, quindi, le corazze, nonostante questa corazza qui sia comunque sufficiente e attendibile, attendibile pure nella vita reale, perché esistono le corazze a piastanza problemi, non proteggerebbe bene come tutte le altre. Ok, ora parleremo delle corazze elfiche del Signore degli Anelli. Quindi, partendo dall'alto, l'elmo è probabilmente uno di cui protegge veramente bene, perché vedo che c'è anche una specie di cresta sulla testa che, che non è solo level design, ma protegge benissimo, come ho detto prima, dai colpi della testa. L'elmo in otto protegge veramente molto bene il volto, il volto, lasciando tuttavia la segna di libra, la respirazione e la vista del soldato. L'armatura, da quel che vedo, tuttavia, nonostante sotto ci sia una cotta in maglia, la vedo molto leggera come corazza a piastre, veramente molto leggera, infatti, penso che non protegga bene come le corazze a piastre degli Urukai oppure di Gondor. Quindi, ha anche molte parti scoperte, come ad esempio sulle braccia oppure sulle gambe. Tuttavia, ciò potrebbe essere colmato dal fatto che sotto ci sia una cotta in maglia. Tuttavia, non ne sono sicuro, ragazzi, perché ho avuto veramente molti problemi a trovare il level design di queste corazze, anche perché sono veramente molto complicate. Sono inoltre anche molto vulnerabili sul collo. Se prima è possibile aggiungere qualcosa, quando un tipo si ritrova davanti a combattere contro soldati vestiti in questo genere qua, non si lascia per niente morire, anzi, vedendo un level design così, così da froci, così, così leggero, potrebbe addirittura pensare che siano, anche se potrebbero bene, sia perché sono delle corazze a piastre, proteggono giustamente, tuttavia, vedendole così esuli, potrebbe farsi, si immoralizzerebbe a vedere dei soldati così esuli, e quindi li attaccherebbe con più foga, convinti della loro debolezza, e fidatevi, ragazzi, di questa cosa qui esiste, psicologia. Quindi, è una corazza che questa qui è attendibile nella vita reale, tuttavia, non sarebbe delle migliori, troppo incasinato il level design, quindi troppo tempo a produrla, e soprattutto, non è, è troppo poco, come dire, è insufficiente nella vita reale, ci si mette troppo tempo a produrla, e tuttavia, protegge anche poco, perché la corazza a piastre, da quel che vedo, è troppo leggera. Ok, il video finisce qui, ragazzi, ditemi se vi è piaciuto, perché se vi piace, ve ne porto un altro, dove descrivo le armi, che invece usano dentro questo film. Comunque sia, volevo portarvi anche, volevo descrivere anche le corazze, degli orchetti normali, che assediano Minas Tirith, tuttavia, il loro level design, è così incasinato, è veramente, è troppo incasinato il loro level design, e sono anche troppo differenti, quindi non riuscirei a descriverle, come dire, sono troppo differenti, e non posso descriverle. Ditemi se il video vi è piaciuto, e ci si vede al prossimo. Ciao a tutti!